Allora ragazzi oggi vi farò vedere come si fa a fare il vero spaghettino alla carbonara questo è il vero tipico spaghettino alla carbonara, a me si fa noi diciamo in Italia buscolate gli spaghetti e voi gli fate risaltare nittegame nella padella vedete io si, un po' dopo, ora io per vantazione ho la mia mamma per dire ho un parente di Roma, sicché per dire la carbonara me la fanno a Roma dice non la fanno da nessuna parte e io diciamo l'ho preso proprio tutti in merito allora poi si va, mi raccomando, è importante usare sempre dell'ova fresca gli spaghetti vanno asciugati insieme alla pancetta, si devono ritirare, si devono diventare pammolle devono diventare segatura, truciolo devono diventare poi si va a pigliare l'ovo, il giallo del nuovo marcio, vedete che ovo bello qui il salmone in dosi ha diritto, vedete che specialità, che bontà ma adesso andiamo a impiattagnine, vedete, ah che spaghettino liquido, deve rimanere il liquido deve rimanere proprio, capito, deve fare l'acqua nel piatto, deve scolare ogni cosa ah che spaghettino, poi vedete che classica, con quanta dimestichezza sto impiantando questo piatto cioè questo gli è roba a chef, siamo ad altri livelli per dire, capito, vedi che bellezza proprio, poi si va ad aggiungere, importante, un'ova crudo se tu vuoi pigliare la salmonellosi, vera, ci vuole l'ova crudo in mezzo poi io diciamo gli voglio aggiungere una bella sporverata di questo bellissimo formaggio vedete, formaggio, tipico parmigiano reggiano poi dopo, vedete, perché no, si va ad aggiungere anche una bella sporverata di salmonellosi e botulino vedete, io lo tengo a questo parattolo la gente venne a mangiare ai miei ristoranti, la rimasta sempre contenta gli ultimi vennero a pegliare la parata dei rozzi gli hanno preso anche in colera, per dire, contenti matti poi io ne per vantazione, ora perché c'è uno zio di Roma si chiama, insegniamo, si fa a fare la carbonara ma questo che ho, vedi, con un bel vinedo, per dire di chiacca con becchiati di Monterbano, ci sta bene, ci sta bene, il vino rosso con la carbonara, la sua morte